Buttare il cuore oltre l'ostacolo, fare una partita di grande aggressività e, ripeto, tutti insieme dobbiamo veramente fare una grande partita. Gettare letteralmente il cuore oltre l'ostacolo. E questo è il diktat dell'ODS Sandro Federico all'ambiente Fidelis in vista della sfida casalinga di domani pomeriggio contro la capolista Catanzaro. Si giocherà ancora alle 14.30 perché non è ancora stato pienamente risolto il problema al sistema elettrico dello Stadio degli Ulivi, ma si giocherà anche il dodicesimo confronto andriese della storia tra le due città. Una sfida sempre molto sentita che arriva con umori però diametralmente opposti. Il grande entusiasmo dei calabresi primi in classifica, la grande ammarezza degli andriesi per non essere ancora riusciti a trovare il primo successo in campionato. La squadra è ferita, è avvelenata perché vuole a tutti i costi ripagare la fiducia del nostro pubblico, della società. È un gruppo sano, allenato da un allenatore capace, preparato. Quindi i primi ad essere dispiaciuti sono loro e proprio per questo io ho grande fiducia in questo gruppo di lavoro, nei giocatori e sono convinto che ci tireremo fuori prestissimo. Una squadra ferita e avvelenata, ma un gruppo sano, ha ribadito il DS Sandro Federico nell'intervista pre-gara. C'è da mettere da parte le due sconfitte con Francavilla in Coppa contro l'Avellino, una gara quest'ultima con diverse certezze in più per chi è stato impiegato meno nel corso della stagione. Sarà assente ancora Persichini che ha ripreso ma non è al top il lungodeggente Ercolani, ma saranno a disposizione tutti gli altri con un possibile ritorno al 4-3-3 dopo l'esperimento 3-5-2. È un ritorno tra i titolari anche di Urso e Candellori non impiegati in Coppa. Il DS è però sicuro della bontà del gruppo e dello staff tecnico e chiede pazienza ad una tefoseria ferita che ha grande paura di vivere un'annata di sofferenza come lo scorso anno. Ci hanno dato grande fiducia dal primo giorno, è per questo che chiedo di continuare. Mi preme ricordare che purtroppo c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno sempre di tempo in un organico completamente rinnovato. C'è grande unità di intenti anche all'interno della società. È una società che vuole crescere, vuole maturare, sta facendo dei passi importanti. Dobbiamo solo continuare così e ovviamente quando arriverà questa benedetta prima vittoria poi sono convinto che verrà fuori tutto il lavoro svolto in questi due mesi.